Finalmente un'opera degna della mostra del cinema a cattone una storia scritta con la macchina da presa un film che non nasce dal cinema ma da un'esperienza poetica un film che ha provocato il più delirante successo della ventiduesima mostra d'arte cinematografica di Venezia scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini questo film non ha bisogno di frasi pubblicitarie la critica italiana già ve lo raccomanda e ve lo indica come un film da vedere Pasolini ha preso di petto cinematograficamente la sua materia mondo delle borgate oziosi ladri impastato di brutalità e di sottile perversione un linguaggio spoglio e colto un altro segno della complessa vitalità del cinema italiano Pasolini ha colto nel segno dissentiamo da coloro che hanno escluso il film più stimolante dell'anno dalla magra competizione veneziana diretto con innegabile intelligenza il successo del film è stato clamoroso ricordate a cattone ricordate quello che ne avete letto quello che ne ha scritto la critica a cattone è un film che potete discutere accettare respingere ma che comunque impegnerà la vostra intelligenza in un gioco che non sempre il cinema offre non perdete l'occasione per una volta di vedere un film intelligente a cattone di Pier Paolo Pasolini lo è Grazie a tutti